Travolta dalla massa inazionale, la polizia ha avuto un po' di rinforzi, mentre a migliaia hanno continuato ad affluire. Iniziano le cariche con i grandi gaspacrimoni, mangaletti, travolto nell'arresto Amore spiacciato, poliziotto, centinaia di arresti. Ma sposte anche in altre città egiziane, come Alessandria, dove a Sardegna reggita il piatto sono scelto in 30.000, o a Suez, dove due manifestanti sono stati uccidi, sembra da proiettili di gomma. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.